È il momento di fare colore all'interno del salone. Siete d'accordo te e il cliente su che colore usare, quali nuance, cosa sono gli obiettivi per il risultato finale? Ma che momento migliore per anche vantare la tipologia di colorazione che usi? Perché normalmente cosa fa il professionista? Si mette nascosto dietro nella zona dove vengono miscelati i colori, esce fuori con una miscela senza nome, senza anima al cliente e cominci ad applicare. Ma è anche il momento di far vedere con orgoglio una nuova colorazione o la vostra colorazione che usate all'interno del salone, vantare delle tipologie di tecnologie che rendono diverso, che rendono il servizio più qualitativo all'interno del salone. Per esempio la mia colorazione ha ben quattro tecnologie, tre registrati a livello internazionale, esclusivi, per il benessere e per la sanità, come si dice, health romano? Salute! Salute del consumatrice finale e la salute del professionista. È il momento di fare e anche condividere con il cliente i colori che stai usando, perché è importante che tu, con orgoglio, fa vedere, esprime, condivide quelle che sono di ottime tecnologie, le novità, le qualità e le innovazioni che stai applicando per rendere i loro capelli e il loro colore splendidi, brillanti, illuminanti. Questo è il momento di non solo applicare il colore, ma anche condividere la tua conoscenza come professionista e le tecnologie che stai applicando.